Nella giornata dell'8 marzo in Puglia sono stati registrati 6.026 nuovi casi di Covid su 22.875 test, 20 le persone decedute. In provincia di Bari sono 1.636 nuovi casi rilevati. In provincia di Foggia 812, in provincia di Bat 433, in provincia di Lecce 1.888, in provincia di Brindisi 461, in provincia di Taranto 733. 75.123 sono le persone attualmente positive al Covid in Puglia, 544 sono ricoverate in area non critica e 31 si trovano in terapia intensiva.